Nella mia testa un sentiero di sassi porta l'uccello morto, seppelliscimi, mi chiede, avrei bisogno di terra, terra nera e pesante, una pala, non ho che gli occhi, li ho avuti al mercato delle pulci in cambio di qualche moneta straniera senza valore, non mi hanno offerto altro, perché mai è morto qui dove non ci sono che pietre, un bel fuoco potrebbe essere una soluzione o delle grandi formiche rosse. Purtroppo è tutto così caro, per una scatola di fiammiferi bisogna lavorare mesi e le formiche sono carissime nei ristoranti cinesi.